Andrea Chiozzi, CEO di Privacy Lab, che ci parlerà di trasparenza online e dark pattern, tra fiducia degli utenti, rischi e disanzioni. Allora, un applauso la farei solo per la spada laser, che sono molto curiosa di sapere come verrà utilizzata. Mi hanno detto che potevo portare il mio puntatore laser, io preferisco questo, mi porta fortuna. Lo spegniamo dai, poi mi servirà perché sarà un intervento dove ho deciso di rischiare un po'. Vediamo cosa succede, se lo trovo. Eh? Appunto, ti distruggo io. Ma tu lo sapevi già precedentemente, insomma, che poteva succedere. Quando ho sentito Nicola, mi ha detto, guarda, potremmo avere, ti va come intervento, di cosa vuoi parlare? Se si abbassi la luce, mi si addormentano in sala, dai, no, 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 se tanto si vede bene, ho visto, sono stato in sala fino adesso. Chi sono io? Per chi non mi conosce, vabbè, tante cose, tanti anni con Nicola e con la privacy, insomma, dal 2003, sicuramente la cosa di cui sono più orgoglioso, a parte il founder di Privacy Lab, del Race Academy, è che nelle mie aziende sono responsabile per l'assaggio delle birre e la scelta del Franciacorta. Io su questo ci tengo a precisarlo, perché l'esperienza, voglio dire, in realtà il mio compito è da evangelist, perché è una parola che mi fa ridere tutte le volte che la dico, quindi ci dico che si va. E Nicola diceva, guarda, potresti parlare di dark pattern, che è una cosa che a me interessa tantissimo, interessa tantissimo perché è un'evoluzione che va al di là dell'applicazione leguleia, quindi tutti in sala a mio diritto, perché tanti di voi sono avvocati, e l'attenzione nelle costruzioni delle storie, di una storia, secondo me è fondamentale. Allora, dark pattern a me piace di più il termine deceptive pattern, perché lo trovo più adeguato. Di cosa stiamo parlando? Allora, mi posiziono. Abbiamo alcuni attori, chi sono gli attori? Definisco il campo di gioco. Ci sono gli attori. Da una parte abbiamo le aziende, dall'altra parte abbiamo i social network, le web agency, il SEO marketing, una serie di persone, di strutture, che aiutano le aziende a costruire applicazioni digitali, il cui obiettivo è aumentare il business del titolare del trattamento, così lo chiariamo per tutti. Il titolare del trattamento va, dice, guarda, io voglio vendere, promuovere i miei servizi, mi costruisci un percorso che mi permetta di essere più incisivo e di vendere meglio. Fantastico. Tutto ragionevole. I dark pattern, i dark pattern, i deceptive pattern, sono comportamenti che, quando costruiamo le nostre applicazioni, ci permettono di vedere il lato scuro dell'interessato, che è quello lì. Insomma, i deceptive pattern, i dark pattern, ci permettono di acquisire consensi, di acquisire informazioni in maniera non lineare. Mi spiego meglio. Non sono io, eh, anche se qualcuno potrebbe obiettare. Allora, un comportamento che le web agency, dico le web agency ma in realtà i titolari in maniera, a certe volte, anche gli uffici legali, quelle belle informative lunghe, 18 pagine. 18 pagine, cioè abbiamo l'attenzione di un criceto che gira nella ruota e tu mi fai leggere 18 pagine? Quindi, l'overloading, io ti carico, noi siamo belli, siamo grandi, siamo super strutturati, facciamo qui, facciamo sopra, facciamo sotto, ti carico così tanti, così tante informazioni nella mia interfaccia, nel percorso che stai facendo, che tu prendi la trebisonda e dici, sì, vabbè, ho la solita informativa, vai, scorri, 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 vai in fondo, vai avanti. Overloading è una tecnica di social, di digital social, dove io carico l'utente di tante informazioni, lui non le legge neanche, va avanti, perché va bene così. Ecco, questa è una tecnica di deceptive pattern. è una tecnica di deceptive pattern, cioè sto mettendo in piedi un comportamento che non è proprio, anzi, forse è anche sanzionabile, adesso poi lo vediamo. Poi c'è lo skipping, un'altra tecnica che viene usata digitalmente. Lo skipping è, allora, ci sono due tipi di skipping. Lo skipping, perché chi ci segue dal punto di vista di costruzione digitale e informatica è un incapace. Quindi clicca qui, poi clicchi e lui come uno scivolo, tu ti infili dall'inizio, arrivi in fondo in 30 secondi, non ha mica capito cosa è successo, e sei arrivato nella piscina. Lo skipping vuol dire che vuoi sapere più informazioni di come tratti i dati e tu fai, ti sposti col dito, col clic del mouse, lui va alla fine, accetta, o sono arrivato alla fine, che faccio? Torno indietro, con già in fondo allo scivolo, andiamo in fondo. Skipping, un'altra tecnica. Steering. Allora, queste tecniche sono state identificate dalle DPB, sul regolamento, il Garanti Italiano ne sta parlando. Lo steering per me è perché gli piace, cioè, oggi forse mi farò qualche, a tanti, tanti, no, tanti no, però insomma dirò cose che sono un po' fuori dal coro. Allora, lo steering è, io costruisco un'interfaccia fighissima e sono su un sito e il sito si accorge che io sono uomo e che mi piacciono le donne, perché potrei essere uomo, mi piacciono gli uomini, il sito si accorge di questo, è capace di fare questo e mi blandisce come una sirena. Andrea, clicca ok, entra sul mio sito, guarda come sono bella e mi fa vedere immagini, colori, robe del genere. E dico, sì dai, è un po' come il youporn, cioè che non guardate cosa ci sta scritto, avanti, 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 voglio vedere andare al solo. Ecco, se siamo influenzati da un'interfaccia che fa pelle alle nostre emozioni, a sollecitazioni visive, il DPB, il garanti dicono, questo steering potrebbe essere un dar patto, un deserto di trattamento, un comportamento non adeguato. Per me questo è una bella interfaccia costruita, cioè chi ha, passa, chi sono, se io non sono forte eticamente da resistere, potrei cedere. È comunque un comportamento da attenzionare. Poi l'abstracting è banalmente il comportamento per cui clicchi, non funziona, non funziona, ti dà l'errore, poi clicchi dall'altra parte, funziona tutto. E volutamente l'interfaccia, spesso anche non volutamente, drammaticamente non volutamente, cioè il comportamento del portale, del sito, della app, del social network, ci blocca quando vorremmo riuscire ad arrivare a maggiori informazioni, a sapere più cose su come vogliamo fare, ad esempio, vorrei sapere come tu tratti le mie informazioni. Dai, fammi vedere. Allora, intro, utente, privacy, come trattiamo i tuoi dati, bello, tutto. Poi arrivi e clicchi lì, non funziona, clicchi da una parte, no, salti di qua, di là. Succede, no? Bene. Abstracting. Poi mi piace tantissimo, un altro comportamento. ad attenzionare è il flicker. Allora, gli utenti, vuol dire, ve lo condenso, gli utenti acconsentono a un trattamento, io ti dico, userò i tuoi dati per mandarli in Ucraina e poter rubarti tutti i soldi. Io acconsento perché non ho capito quali siano le finalità. quindi tu sei stato così bravo nella costruzione dell'interfaccia in ComiFi che io sono portato tramite l'interfaccia ad accettare un comportamento senza capire finalità. Questa a me, ad esempio, suona molto come i giornali che dicono o accetti i cookie o ti abboni. No, così, la butto così. Poi, il garante sta guardando, che c'è da guardare? A me va benissimo che il giornale dica io produco informazioni, le mie informazioni sono, mi costano sudore, sangue, fatica e assicurazioni, quindi se le vuoi leggere paghi e ti abboni, se no assorata, va benissimo, ma non se le vuoi gratis ti faccio i cookie, la fammi un contratto, vuoi accedere gratuitamente? Registrati, questo è il contratto per accedere gratuitamente, dopo che hai avuto accesso io te le accedo, ti permetto di vederle, per conto, per conto, il corrispettivo è a fronte del fatto che tu le vedi io utilizzerò certi tipi di sistema. Mettimelo in un contratto, mettiamolo insieme, non c'è niente di male, io accedo, accetto, e questo è il flickle. Poi c'è il left in the dark, normalmente il left in the dark sono i minchioni che fanno l'interfaccia, l'incompetenza assoluta, cioè non si capisce dove devo cliccare, ma c'è la X, accetta, quelle robe fatte male, non volutamente e certe volte anche volutamente, quindi dall'interfaccia non riesco a capire che cosa sto facendo perché è come la mebbia, no? Ho scusato, ma posso non accettare? Sì, no, non si capisce. Bene, questi sono comportamenti a logica di cose sanzionabili. Sanzionabili perché? Sanzionabili sicuramente per un'problematica di privacy by design e per il garante italiano e qui scusate, accendo la spada laser perché non si sa mai, mi proteggo, fa anche i suoni, è bellissimo, sì, per il garante italiano spesso le sanzioni partono dall'articolo 5 che è giusto, eh, io non sto mica dicendo che sia sbagliato l'articolo 5 che tutto da lì parte, da lì deriva, però stiamo attenti, cioè, tu mi stai dicendo che ho sbagliato l'interfaccio o ho fatto il bottone di rifiuta in verde e non in rosso e quindi ti sto turlupinando e tu mi sanzioni in senso dell'articolo 5 perché è successo? facciamo che ci vediamo in Cassazione e forse vinco come cioè cosa è importante? Io capisco l'autorità garante si trovano da una parte una serie di fenomeni che per due dati un numero di telefono vendono la mamma quindi provano a recuperarla e sto parlando a chi di voi tratta con le web agency con i content creator con le aziende di SEO digital dove l'etica non è proprio così perfetta bene abbiamo da una parte loro abbiamo da una parte gente che magari non è così a posto e l'approccio non anglosassone cioè quello che dice devi avere l'interfaccia così devi fare questo va al di là della logica del GDPR perché il GDPR non è così il GDPR ci dice fai quello che vuoi io verificherò la tua storia e guarderò se la tua storia ok se avevi di misura di sicurezza se avevi pensato quello che hai fatto se l'hai pensato e c'è ragionevolezza per me ok non una lista come avevamo nella 196 allegato B devi fare questo 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 e questo non è così il GDPR era così la vecchia e allora mettere tentare di mettere regole aggiuntive perché la situazione è complicata forse non è la soluzione migliore o potrebbe scappare di mano perché l'autorità deve dare una direzione deve aiutare l'utente a capire che guarda che stai cliccando su della roba che l'ha scritto un minus abens o un truffatore stai attento oppure alle aziende guarda azienda se vuoi costruire un percorso mi va bene ma evitiamo che ti arrivi la spadata che ti taglia la testa e allora Seneca diceva una frase che a me piace tantissimo ogni tanto la ripeto ignoranti che cosa vuol dire ve la dico in francese sono le quattro e mezzo posso parlare non c'è tanta gente non mi stanno riprendendo se tu non sei in un tuo cazzo vuoi andare non c'è nessun vento che ti possa aiutare cioè il capire qual è il tuo obiettivo è fondamentale come azienda come titolare del trattamento dimmi che cosa vuoi fare e perché e insieme troveremo il vento giusto per accompagnarti vuol dire riuscire a costruirsi le storie ok questa è una parte che mi mette un po' in difficoltà cercavo di spiegarvi quindi vi ho detto non ci secondo me non ci dovrebbero essere delle regole che dicono l'interfaccia deve avere la x in alto la cosa a destra la cosa a sinistra io devo costruire una storia che sia giusta che sia credibile a fronte di quello che voglio fare qual è il mio obiettivo abbiamo detto è importante avere un obiettivo uno degli obiettivi è io devo voglio recuperare le informazioni in maniera corretta affinché possa propor i miei prodotti e i servizi lo voglio fare in maniera corretta e voglio proporti i miei servizi benissimo cercavo un esempio per riuscire a spiegare questa cosa mi è venuto un esempio un po' così quindi vi prego non voglio offendere nessuno quindi concedetemi un momento di 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 pazia allora praticamente quando io azienda affido la costruzione la costruzione o l'idea di interfaccia del web di programmi di marketing di campagna pubblicitaria mi sono dato mi voglio dare un obiettivo e devo far sì che sia eticamente non all'interno del DARPA non voglio rischiare una sanzione nel senso l'articolo 5 il 25 privacy by design illecitato piuttosto che il consenso bene come faccio a decidere se chi mi ha proposto l'interfaccia me la sta facendo giusto allora l'unico esempio che mi è venuto è questo io diciamo così esco una sera a cena con gli amici e stasera a cena ho un obiettivo fare sesso quindi quello è il mio obiettivo e chiedo ai miei amici o guarda sono è un anno sono monogamo non so più come fare ad abbordare una ragazza o un ragazzo o quel che volete non mi importa io non ho grosse va benissimo tutto voglio abbordare che consigli mi date perché è un anno che non faccio niente l'agenzia che mi segue parte il primo e il primo mi dice io dico guarda normalmente io la pago e ho risolto e si sta se l'applicate anche all'azienda dico poi quanto la paghi poi diventa se sono tante diventa un casino però va bene parte il secondo e l'altro guarda io ho un metodo infallibile io gli sciolgo il rock nol dentro il bicchiere poi dopo faccio quel che voglio allora a me si accende e spero che in questa sala si accenda tutti la lampadina che dica no a prescindere che non è eticamente corretto eppure penalmente perseguibile guarda caso come certi comportamenti legati all'art pattern ho il design pattern bene e dico no stai scherzando cioè te devi andare in galera io come azienda come amico non ti voglio più perché sei una brutta persona io come azienda che ti fa il marketing non ti voglio più perché tu utilizzi delle tecniche che non vanno bene arriva un altro si dice guarda io ho un metodo infallibile io le faccio ubriacare quando sono stordite ho capito abbiamo detto non erropno sì ma erropno gliene hai messo senza che non lo sapessero invece bevono bevono consapevolmente e cambia cambia no è un altro tipo di design pattern di dar pattern e se siete eticamente corretti vi si dovrebbe accendere anche voi una lampadinetta no giusto dire no questa non è una cosa tanto carina e se invece non vi si accende sporcaccioni vergognate vi andate fuori allora e chi ve lo propone non può essere un'azienda corretta perché vi sta proponendo questo allora ci sono però ci sono altri modi io ad esempio mi metto la panzea perché cerco di essere la dimensione non aiuta però magari così sfodero il mio charm ci provo fiori ortiche caviale champagne bella ma io le gioco tutte cioè faccio lo steering che secondo me è giusto farlo quindi loro l'hanno messo in una roba che non è corretta ma secondo me è giusto io mi dico guarda vieni con me perché non sarò l'uomo più bello del mondo ma potresti divertirti con me dammi le tue informazioni perché i servizi che io ti posso dare potrebbero essere interessanti è chiaro che ti ripresento nella maniera migliore possibile allora capite che da questa modalità di lavoro il garante ti vede sì ma soprattutto il mercato ti vede il mercato e i consumatori dovrebbero essere formati e informati su queste modalità e allora le agenzie e web creator no che arrivano dicono cioè perché li troviamo tutti ma anche i dpo allora di solito i dpo sono quelli così posso fare questa cosa no così no ti ricordo che voglio dire posso usare google immagini per taggare tutte le foto di free the nipples per vedere quante sono le dimensioni dei seni perché siamo un'azienda che fa regi seni intendo costruiamo una storia che sia credibile ma credibile non perché siamo italiani e come le raccontiamo le storie noi non le racconta nessuno sia credibile perché è vera sia credibile perché sia applicabile e quindi le agenzie e web creator e i dpo cioè il marketing o l'interface privacy manager dovrebbe essere una figura che deve cominciare a entrare nella logica delle persone e allora vi ricordate io sono vecchio e lui è albanese che fa frengo si dice why perché because perché devo fare questo allora mi sono accorto che il problema in realtà non è la costruzione dell'interface a case file è lì una battitura notturna cosa fai perché 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 nel momento in cui io do vi do come obiettivo il recuperare informazioni e per me questo è il mio obiettivo in realtà lo faccio in maniera in consulta cioè quindi non solo utilizzo il dark paper utilizzo delle modalità non del tutto console ma le informazioni che recupero spesso non sono qualificate e ritorno all'esempio che facevo prima che gran soddisfazione eh deve essere avere un rapporto con una persona svenuta per il VoIP non lo sapevo io non lo so ma me lo immagino che gran soddisfazione è avere delle informazioni dei dati personali raccolti in maniera non chiara su cui non sono sicuro che poi mi servano davvero cioè è ora di dire basta alla raccolta stile anni 50 o 60 i direttori i direttori marketing o i direttori commerciali avevano i cassetti hanno i cassetti pieni di biglietti da visita e più biglietti da visita hai più sei potente abbiamo uno fuori Roberto di Privacy Lab lui ha sette cassetti pieni di biglietti da visita alla domanda cosa te ne fai? niente niente perché poi i rapporti che costruisci sono diversi però le fiere li prendi poi con qualcuno andrai avanti ma gli altri li butti nel cassetto che qualità ha quell'informazione lì cioè il concetto di gestire un'informazione di qualità è una delle rivoluzioni che dobbiamo metterci in testa gestire un'informazione di qualità e gestire un'informazione di qualità non vuol dire gestire i consensi io mi sono rotto le scatole di sentire dobbiamo gestire i consensi mamma date il consenso marketing ma chi se ne frega perché noi non stiamo gestendo consensi noi stiamo raccogliendo informazioni per fare una storia con una finalità e quella finalità può avere una base giuridica completamente diversa eppure al marketing su Salesforce su HubSpot noi abbiamo questo indirizzo questa persona possa contattarla per email ma chi? no non funziona sono interfacce inutilizzabili dove la qualità dell'informazione è zero il ritorno è il 15% se non il 2% se fatto la campagna il ritorno è del 2% o del 2 per 1000 cioè io spendo soldi e tempo per mandare 1000 email mi rispondono in 2 oh ma che qualità è? io voglio mandarne 10 e mi rispondono in 5 quello vuol dire avere una qualità quindi vuol dire non essere consenso centrici ma vuol dire essere finalità centrici vuol dire aver costruito una storia io faccio questo raccolgo queste informazioni in questo modo perché voglio arrivare lì te lo spiego perché i miei servizi sono fighi sono forti i miei prodotti sono ok mi dai consenso oppure lascia perdere ti piace la mia storia ti piace quello che sto facendo sì allora tu mi dai l'approvazione alla mia storia la mia storia è la base giuridica insieme ai tempi di conservazione insieme alle finalità insieme al perché lo faccio insieme al dove mando le robe la mia storia è un continuum non è solo un consenso questo è importante e allora qual è il problema? ma è i fenomeni ci penso io io non veramente sto impazzendo con i fenomeni no ma noi abbiamo il sistema migliore tutti hanno il sistema migliore si vede non lo so tutti noi guarda nomi se sposa tutti abbiamo il sistema migliore di consensi ma fammi capire guarda siamo bravissimi noi facciamo tutto aggiustiamo anche le biciclette ok d'accordo ma che storia hai dietro? cioè riesci a seguirmi nella storia riesci a costruire su misura perché la mia storia è diversa dalla sua ed è diversa dalla sua perché io racconto un percorso prendo queste informazioni per questo motivo per farci questo in questi con questi dati in questo paese con questi strumenti i o è n alla n alla n alla n alla n fate il conto di quante possibilità quindi la sua storia è diversa dalla sua non può essere uguale e allora e allora servono attenzioni etiche servono interface privacy manager persone che sappiano di storie so che sembra una roba riduttiva raccontare una storia è fondamentale perché la storia ribadisco è cosa fai perché lo fai dove lo fai con che cosa lo fai tutto questo e me la racconti e io ti do l'ok bene questa informazione per fare questa storia ho bisogno del tuo nome e cognome indirizzo a mail dai bello figo ti do ti do il permesso per raccontarmi questa storia il tuo nome e cognome indirizzo a mail però tu sei anche un più cliente magari quindi le stesse informazioni le posso usare per raccontare anche un'altra storia certo perché la base di esito è diversa ad esempio ti posso fare customer care hai acquistato da me una caterina d'oro guarda sono uscite altre caterine d'oro e lo faccio raccontando tu una storia con una base teorica diversa dal consenso ad esempio perché lo posso fare allora io l'ho chiamato per cuvo quindi un sistema in grado di navigare tra universi paralleli che si raccontano storie ed è realtà ed è un prodotto grazie vi ringrazio volevo stare nei 40 e ci sono stato detto io riprendo la mia spada laser scusate a cui soltanto legato casa bai ciao gorgo ciao 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 papà no voczo chanel 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 Grazie a tutti.